Continua a coinvolgere diversi studenti e docenti la didattica a distanza, che grazie a quanto previsto dal Decreto Cura Italia viene sostenuta con fondi per l'acquisto di dispositivi elettronici e per la connessione internet destinati alle scuole primarie e secondarie di primo grado. Dopo i 115 mila euro assegnati a tutte le scuole abitontine, sono state conferite ulteriori risorse pari a 78 mila euro, un grande sostegno per le scuole del territorio che va a colmare il ritardo riscontrato nel mezzogiorno, come ci ha raccontato la deputata abitontina del Movimento 5 Stelle, Francesca Anna Ruggero. Il Ministero dell'Istruzione sta lavorando per sostenere anche le scuole del secondo ciclo e per i centri provinciali per l'istruzione degli adulti. Un momento difficile soprattutto per le famiglie più fragili del nostro territorio, che non sono rimaste sole. 61 tablet 56 dispositivi per la connessione internet sono stati donati grazie al progetto Welcome Lab, coordinato dalla Cooperativa Sociale Occupazione e Solidarietà e finanziato da Impresa Sociale con i Bambini, in risposta all'iniziativa Resto a casa ma imparo ugualmente, lanciata da Con i Bambini. Non sono mancate anche iniziative di solidarietà da parte di alcune associazioni bidontine. Justin Magine ha pensato alla donazione di tre tablet a bambini che frequentano la scuola primaria in stato di indigenza familiare. Il Comune ha affidato all'Associazione Amici del Cuore Giuseppe Albi la consegna a domicilio di materiale di cancelleria e libri di testo. Al momento però, come ci ha raccontato l'assessora alla pubblica istruzione Marina Salerno, nessun cittadino ha usufruito del servizio, forse in seguito al nuovo DPCM che permette di uscire per determinate comprovate esigenze.